Amore, è bellissimo! Senti Vittoria, il mio sposale? Non aspettavo altro. Ora pensiamo a noi due. Ho desiderio di una bella bistecca e di un'insalata mista. Cameriera? Salve ragazzi. E tu? Saputo che spesso faccio anche un mortale per avere un po' di fumare. Ma che sei? Cosa vuoi? Stai cercando rome? Non è che te ne vieni qua così? Stamattina siamo stati a un appuntamento con un certo Messelle Blanc francese. Abbiamo visto tanta di quella roba da farsi diventare ricchi in un colpo solo. Cazzo! Minchia! E a voi quanto costa? È davvero un'occasione irripetibile. Cioè solo 300 milioni. Ma siete pazzi? Ma non pensate di trovare tutti qui sui? Ci hanno già predisposto un colpetto a un furgone poltavalore. Cioè una cosettina semplice semplice. 5 minuti. No carezza, non è il genere di cose che possono rendermi felice. Io lo sai ho fatto dei progetti con Vittoria. Amore ci vediamo domani mattina. Io ora studio un paio d'ore e poi vado a dormire. E cos'hai da essere finito a un paio d'ore? Hai superato qualche salto? Adesso mi hai compiuto un brazzo. Cavaliere, scusa. Porta una bella pizza con i salsicciocchi alla nostra nuca. Provedo immediatamente. Questa è la mia pizza. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Tocsimo di questo. Questo deve sempre proprio meritare. Corso mio! Questa è la mia pizza. Questa è la mia pizza. Serena? Che è successo? Serena? Tagliati! Non è possibile. Non è possibile mio figlio Alberto. No! 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 Grazie a tutti.